matto facciamo benzina dall'unico benzina che ha i prezzi sotto i 2 euro 71,6 buono non so se dalla gopro si veda tutta la polvere che si sta alzando e si sente al vento che c'è che in alcuni momenti ci sono di quelle folate adesso mi troverò in una zona industriale con il cinga che si è già vista sul canale ma mi sa ormai 7-8 mesi fa avevo fatto un video qua che si chiamava zip sp70 versus booster 70 e tutte le volte mi sbaglio all'entrata poi non so se sarà già uscito il video del termometro e se non è uscito ho montato il termometro no allora devo andare giù di qua in teoria si si è di qua se significa che in giù da se un'a scrisate se ne silly ti senti che in giù ti bak sì Sì, 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 sì. Era rosso! Non vi ho ancora detto dove stiamo andando oggi, praticamente il papà del Cinga ha aperto un ristorante, allora andiamo a mangiare lì tanto per così gli scrocco un pranzo gratis. Cioè, questo vento mi sembra di essere fermo. Anche a me, anche a me. Vai il cane. Andiamo a risparmio che tanto abbiamo fretta. Che c'è? Si sta facendo l'orefino. Anche a me. Manca tanta strada, no? E perché ti sei fermato adesso? Anche a me. Anche a me. Anche a me. Anche a me. Grazie a tutti Adesso lo so già che mi ammazzo Perché andare senza manico lo zip Non è molto semplice Sto qua in contramano lui Non è molto semplice Non è molto semplice Sto qua in contramano lui Non è molto semplice Non è molto semplice